Ciao, il mio nome è Deborah Mendolicchio e ho fatto dell'arte, il mio mestiere e la mia passione. Sei un artista, un performer, un pittore, uno scultore, un musicista? Lo fai per hobby o ti piacerebbe diventarsi la tua professione? È per questo che ho pensato a te, che sei un artista ma non hai il coraggio di dirlo, di affermarlo. Vorresti essere un professionista ma in fondo l'arte non è un lavoro. È proprio questa passione inespressa che voglio dare realizzazione e ho creato un progetto che si caratterizza in tre punti. Uno, qual è il tuo segno d'arte? Te lo sei mai chiesto? Perché non siamo tutti uguali. Due, qual è il pubblico di nicchia che corrisponde a quel segno specifico? E tre, come fare a raggiungerlo? Come per ogni professione, anche per l'artista, occorre metodologia e pianificazione. Per questo ho creato Qarte, l'orientamento professionale per artisti. La consulenza a Qarte è gratuita fino a fine 2018. Prenotando ora avrai diritto a un'ora di consulenza al tuo segno specifico e alla ricerca di mercato del valore di 150 euro. Una recensione gratuita alle tue opere d'arte del valore di 50 euro, spendibile in tutti i tuoi canali. E un report d'orientamento che ti farà da guida per iniziare a vivere della tua arte finalmente. Del valore di 200 euro. Quindi cosa aspetti? Non costa nulla e non vedo l'ora di conoscerti. Per aderire a questa promozione, clicca qua sotto il video e lasciaci i tuoi contatti. Tira fuori i tuoi sogni dal cassetto, ora puoi!